eccoci buonasera e bentornati tutti a cinema da casa e cominciamo subito con la nostra sigla e ringraziamo come sempre bandaz con la nostra sigla e ringraziamo come sempre bandaz o forse è solo previsto per il tuo viaggio interiore tra sogno e amore lo troverai tra le mille storie che inventerai in una grande città Giulietta si chiamerà prendi quel treno e mai la sciarpa rossa folla ma che farà parte di te conquista la libertà con la tua fantasia sei della razza di Clau e tutto ciò che a parte è la mia te teatro per me il circo la danza e poi mio mio che follia cava il serraglio di mori o da rischi e poi i pagliacci e i pianischi e solo per te la mascherata e il trucco e l'apparizione e la fascinazione è la notte di Roma e allora eccoci qua buonasera a tutti buonasera davvero anche a tutte le finestre che tutte le sere stanno programmando con noi in contemporanea a Torino, a Bologna che programmano oramai da tantissimi giorni come noi siamo arrivati ormai a 46 giorni quindi davvero grazie per tutte queste serate cinematografiche che stiamo passando assieme stasera il filo conduttore è l'amicizia devo dire la verità che sono rimasta molto colpita anche dall'entusiasmo con cui moltissimi ragazzi sia i nostri ex giurati che sono sulla piattaforma di scelte di classe sia tutti quelli che ci seguono sul canale youtube e sui social e stasera in particolare noi abbiamo creato una serata assieme al laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno e ci sono dei ragazzi che hanno scelto le sequenze per noi e la prima è Giorgia Remediani che adesso chiamo con me in diretta Instagram che ci racconterà un pochino qual è il percorso che volevamo fare stasera vediamo se riusciamo a parlare con Giorgia eccola ciao ciao eccoci Giorgia buonasera buonasera tranquilla vedi il muro ma è normale io ti vedo e ti sento eccoci qui e tutti ti vedono ok perfetto allora senti voi avete fatto un po' un lavoro di gruppo saluto Massimiliano Bruno che vedo Max che vedo che è in diretta invece Facebook e raccontaci un po' tu in particolare hai scelto un film però insomma qual è un po' il lavoro che avete fatto il mood della serata allora guarda noi ci siamo riuniti su un gruppo Whatsapp e abbiamo deciso tutti insieme di parlare dell'amicizia e abbiamo scelto questo tema perché forse la cosa che ci manca di più è stare appunto insieme dato che passavamo la maggior parte delle giornate 24 ore su 24 insieme adesso è un po' cambiata la storia abbiamo scelto questo tema l'amicizia e ognuno di noi ha messo sul gruppo Whatsapp una clip di un film che parlava di amicizia le abbiamo votate e abbiamo scelto 10 clip che appunto vedremo stasera va bene senti tu in particolare ne hai scelta una o comunque ne presenti una qual è Giorgia? sì, ne presento una, ho scelto una clip presa da un film che si chiama Un uomo da marciapiede che in realtà sarebbe Midnight Cowboy è un film del 1969 un film con Dustin Hoffman e John Boyd benissimo ma perché in particolare hai scelto questo? perché in particolare? ho scelto questo perché è un film che ho visto durante la mia quarantena perché ce l'ha consigliato Maurizio Lopes che è uno dei nostri insegnanti all'interno del laboratorio e mi è piaciuto particolarmente, è piaciuto tantissimo e vi consiglio di vederlo perché è veramente meraviglioso un Dustin Hoffman da brivido bene, senti tra l'altro insomma sono concordo perché è veramente uno dei a parte aver vinto tre Oscar è uno forse dei film americani degli anni 60 che più ha segnato insomma oltre a un cast veramente di quelli stellari quindi ha lanciato John Boyd direi che ce lo vediamo insieme e poi magari ti richiamo in diretta Instagram così introduciamo insieme il secondo film va bene? va bene grazie ehi bello, guarda un po' qua che cosa vedi? guarda dentro, bello c'è anche roba per te tieni, prova se ti stanno bene dai, prova t'ho preso anche un po' di quella roba che prendi sempre aspirina, mentolo, tutte quelle forcherie beh, non è la tua misura? no, vanno bene ma perché l'hai comprata? mentre tu pigliate l'aspirina io li potevo rubare è caldo sì, vuoi un po' di minestra? sì io ti do un po' di minestra non abbiamo più bisogno di rubare, non lo capisci? ho ancora otto dollari in tasca e giovedì ne arrivano altri venti figliolo tra poco saremo ricchi sfondati dammi la minestra dammi la minestra è bollente, sta dentro com'è andata? l'ho fatta impazzire, guarda giuro che l'ho fatta impazzire ah sì? sì, sembrava una gatta in calore grazie Barolo lascio vedere è buona senti, non ti arrabbiate no, non mi arrabbio io credo di non poter più camminare sono cascata tante volte e c'ho paura di che hai paura? lo sai che gli fanno a uno quando non te ne ha a casa quando scoprono che non può più camminare oh Cristo ora mi devo sdraiare ok, ok ora mi devo sdraiare ti devi sdraiare, va bene, va bene andiamo ti aiuto io a sdraiarti ecco, piano ti metto questa roba addosso e resta così dov'è che fai? vado a chiamare un dottore dove? vado a chiamare un dottore tu non chiami nessun dottore? no sei malato, hai bisogno di un dottore ehi niente dottore né poliziotte ricordate, non fa lo stupido beh, allora che diavolo vuoi che faccia? in Florida, portami in Florida cavolo, non posso andare in Florida adesso allora mettami su un autobus mettami su un autobus non mi serve tu tu hai una febbre da cavallo come diavolo fai ad arrivare in Florida? tu mettami su un autobus voglio finire l'ospizio e ora che cosa fai? che stai facendo? io sto caldo tu sei malato sei malato? adesso sto troppo caldo scemo quanto sei scemo? non mi serve sta zitto 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 che cowboy scemo che sei ma che cavolo smettila proprio quando le cose si mettono bene per me mi devono a fregare nulla del genere allora e eccoci qua vi vediamo se richiamiamo Giorgia con noi così introduciamo poi anche il secondo film eccoci Giorgia bellissimo bellissimo mi piace tantissimo invece il secondo che voi avete scelto è Il professore pazzo esatto che è un film del 2019 in realtà beh è un adattamento cinematografico di un libro ma perché l'avete scelto? tu tra i tanti secondo te? guarda perché anche quello è un film appunto che narra di un'amicizia pazzesca speciale? si speciale speciale beh è un bellissimo film anche se è molto appunto molto recente ma film meraviglioso va bene senti allora noi ce lo vediamo e poi andiamo avanti e prendiamo gli altri invece in diretta telefonica ok? va bene rimani con noi grazie ciao 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 così lei è il buon dottore il signor Murray signore dottor Minor sono orgoglioso di fare la sua conoscenza non riesco a credere ai miei occhi neanche io né a questa sorpresa com'è riuscito a entrare? ah ho fatto un tentativo e le ho portato questa il nostro raccolto fino ad ora umile ma pronto a ereditare il mondo la ringrazio merita di esserne orgoglioso non ho parole è stato un baluardo per noi dottore felice di esserle utile ma io sono un'ape operaia alveare il suo era sua citazione per alveare Maret 580 ma certo i primi dizionari di inglese, latino, francese e greco beh, come lei ben sa come io non so io conosco i poeti lei con i suoi titoli conosce che scrive? ma ora il mio compito è descrivere alveare come risuona di un piacevole ronzio e allora? randello forma splendide losco una parola che ricordo dall'infanzia sembrava sempre un po' nuda psicofante una parola che adoro sembra che vada in cerca di guai guai li crea è difficile da trovare vortice una rivoluzione un turbine degussato formato da due linee che si incrociano a X dovrebbe scrivere lei le definizioni e io, beh non saprei certo prendermi cura dei suoi pazienti quindi lasciamo le cose come stanno in fondo abbiamo appena cominciato siamo soci parola per parola un americano e uno scozzese come ha attraversato questi cancelli un americano? storia per un altro giorno continuiamo la comparazione uno Oxford uno Yale capelli grigi uno geniale uno pazzo sì, ma chi è cosa? e ancora, sempre parlando di amicizia abbiamo un altro film un film francese quasi amici un film che si è fatto apprezzare che è stato campione d'incasso al botteghino e ci ha fatto scoprire davvero forse quanto il cinema francese possa anche essere divertente il film è di Nakashi Toledano ed è, insomma un film che fa sorridere che fa riflettere vediamolo assieme basterebbe un piccolo colpo secco vedo che sei di buon amore mi fa piacere beh, mi sono applicato ora puoi aprire gli occhi oh, che orrore che orrore è atroce dai, stai bene oh no oh no no pensati così gile di cuoio senza maniche bracciale a borche berrettino alla village people e poi ah, ho trovato panciovilla sì, sei panciovilla sputato allora, vediamo adesso sei un prete ortodosso un pop sì, sì un pop ehi è pazzo dove sei? che stai facendo? mi aspetto il peggio no, penso che ti piacerà invece così sembro mio nonno davvero? Philippe, questi baffi non so che cos'hanno ma mi eccitano beh, ora ti tolgo tutto sì, è meglio benissimo oh, no, no no, questi non li voglio no, 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 no ti prego no nein è questo che vuoi dire? no, non siamo d'accordo Philippe ingazzato drisse caput mi sa che sono proprio diventato il tuo giocattolo sei completamente fuori di testa sei da ricovero ma non ti viene voglia di invadere qualche paese conciato così? per favore, adesso basta diamo un ultimo colpo di rasoio ma ti fa ridere beh, sì pensa ai tetraplegici nazisti era difficile fare il saluto nazista così HOIL beh, ti sei divertito abbastanza levami questi baffi RUCEF HEIST CITAIS 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 eccoci e adesso prima di proseguire eccoci aspettami eh adesso prima di proseguire noi abbiamo in diretta Marco Marco buonasera buonasera a voi eccoci allora tu invece hai scelto un titolo che è Green Book sì 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 eh, ci dici perché hai scelto Green Book oltre ad essere vabbè un film che ha vinto l'Oscar che davvero colpisce ma tra tanti parlando di amicizia come mai hai scelto Green Book? ma ho scelto questo film perché parla di un'amicizia che nasce e cresce piano piano in un contesto eh difficile particolare tra due persone provenienti da un tipo di cultura eh diverso e quindi mi piaceva la dolcezza con cui questi due personaggi poi realmente esistiti hanno stretto una un'amicizia anche molto forte poi di lì in avanti è continuata per Parigi beh una grandissima prova d'attore insomma qui abbiamo Vico Mortensen davvero in in stato di grazia quindi eh devo dire la verità non solo lui non solo lui eh sì e secondo me è uno dei più bei film degli ultimi anni anzi per quanto vi riguarda forse il più bello va bene allora se lo vediamo insieme e rimani poi con me in diretta telefonica ok? perfetto 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 cara Dolores C.A.R.A. l'H. non serve mentre sto scrivendo questa lettera sto mangiando le patatine e sta iniziando a venirmi molta sete è patetica direi mi dica cosa vuole dirle non lo so ma mi macchino allora glielo dica ma la faccia con un linguaggio che non ha mai usato prima qualcosa come scriva così innamorarmi di te è stata la cosa più naturale che abbia fatto niente nella mia vita conta più di te e ogni giorno che vivo me ne rendo conto di più ti ho amato dal primo istante ti amo oggi e ti amerò per il resto della vita posso mettere PS bacio ai bambini un PS sì alla fine è come suonare un campanaccio alla fine della settima di Shostakovich quindi si sta bene è perfetta Tony eccoci eccoci qua eccoci qua beh dove dire che anche i tempi i dialoghi è veramente un grandissimo film sì stupendo stupendo assolutamente stupendo il modo con quale lui accetta di fargli scrivere quel PS secondo me è lì l'inizio di un'amicizia che sta per nascere nonostante lui non sia d'accordo con quel PS finale ma lo guarda quasi a dirgli ok sta andando bene per i tempi senti visto che ti abbiamo in diretta raccontaci un po' come funziona anche il laboratorio che di solito seguite al di là insomma come era la vita un po' prima di questo stop che abbiamo avuto eh la nostra vita all'interno del laboratorio era praticamente quasi sempre e molto felicemente all'interno del laboratorio di Massimiliano Bruno io personalmente seguivo una classe che si vedeva ogni lunedì sera con dei moduli ogni tre mesi con degli insegnanti diversi all'interno della struttura poi nascevano progetti collaborazioni spettacoli quindi è stato per molti di noi per tre anni fino a prima che ci chiudessero forzatamente un punto fondamentale non solo per lo studio e per per i progetti che poi ne sono nati davvero tantissimi e tantissimi molto belli ma è tuttora perché torneremo sicuramente ma è stata un'esperienza di vita stupenda a 360 gradi si vede anche da come siete gruppo anche in queste chat in cui sono inserita devo dire la verità si vede che siete un gruppo molto affiatato sì lo vedi un po' più tu perché non sono uno che segue moltissimo però sì sono nate delle amicizie su cui poi ci sono fatti dei lavori stupendi quindi è davvero un'esperienza stupenda che non vediamo l'ora di tornare a vivere tutti assieme va bene speriamo davvero che si riesca presto e noi adesso per sorridere per continuare a parlare di amicizia prima di andare al prossimo che ci illustrerà un po' la serata di oggi e ci vediamo amici miei una scena di amici miei ciao Marco va benissimo ciao fammi vedere sugli affittasi una casa per i maschetti una parola qualunque buco era troppo caro per lui e noi come potevamo fare a aiutarlo con quel carattere che ha si dovette fare di nascosto c'era uno scantinato che gli piaceva tanto ma anche quello irraggiungibile per lui e noi ci mettemmo d'accordo col padrone per pagargli sotto banco quasi due terzi dell'affitto all'arredamento provvide da solo zona pranzo volendo c'è anche il posto per un ospite zona letto one two three c'è anche una strada living e armadiero bello bello ampio pomodo qui c'è l'armadio muro con i ganci per quando avremo qualcosa da attaccare cucinotto con lavatrice a mano e infine permesso permesso bagno birbater è separato fuori nel cortile funzionale l'arredamento convenzionale non usa più ma è lo stile moderno pare che non c'è nulla invece c'è tutto eh pare che c'è tutto invece non c'è nulla uh certo un po' caldo di riscaldamento è lo scarico dei cessi del palazzo ora fai le mangiare avranno fame a tavola su che sappiamo anche noi colpettine insalata sovietica per finire come deserte castagne di bosco no no quelle no scusate ma sei campato soltanto di castagne lassù capisco calantina sante pollo sante sante allora eccoci qua eccoci eccoci ciao Fabrizio ciao buona vera ciao proseguiamo questa serata dopo amici miei con altri tre titoli però tu in particolare hai scelto c'era una volta in america esatto ci dici qualcosa di più? vabbè diciamo che è stata una scelta personale per me perché quando in quel film lì amicizia molto controverso quella tra loro due tra Robert De Niro e James Booth insomma un'amicizia attraverso i drammi tra gli inventi inganni insomma che succedono però nonostante tutto è un'amicizia talmente forte che Robert De Niro si dimentica insomma di tutti i rancori i risentimenti nei confronti di James Booth perché il ricordo di questa amicizia è talmente forte che lui vuole tenere con sé per sempre un'amicizia comunque splendida straordinaria che comunque è anche struggente perché nel corso della vicenda insomma loro due insomma ne passano delle tragedie enormi quindi insomma la mia scelta è stata dovuta a questo fondamentalmente e poi anche perché vabbè è uno dei miei film preferiti quindi è uno dei film a cui sono appezionato per me è monumentale ecco come film quello no sono d'accordo mi incuriosiva sul tema un po' che avevate dato dell'amicizia quindi volevo capire un po' la chiave che ti aveva spinto sul fatto che sia un film insomma davvero da segnalare questo mi sembra abbastanza chiaro l'abbiamo visto già due o tre volte quindi è un film che ha colpito molti e che molti nel loro percorso decidono di segnalare rimani con noi che ce lo vediamo assieme rimani con noi che poi ti riprendo in diretta ho rubato la tua vita e l'ho vissuta al tuo posto t'ho preso tutto ho preso i tuoi soldi la tua donna ti ho lasciato solo 35 anni di rimorso per la mia morte rimorso sprecato cosa aspetti a sparare e l'ho vissuta e l'ho vissuta e l'ho vissuta Eh sì, di gente ne ho ammazzata, signor Bailey. Qualche volta per difendermi e qualche volta per contratto. Venivano in tanti da noi e ognuno con un suo problema. Arrivare in affari, soggi, amanti. In certi casi accettavamo, in certi altri no. Il suo non l'avremmo mai accettato, signor Bailey. È il tuo modo di vendicarti? No. È solo il mio modo di vedere le cose. Ed eccoci qua. Eccoci. Eccoci. Dopo, voi avete invece segnalato un film di animazione. Tra l'altro, devo dire che è stato il primo film che nel 2002, appena è stata introdotta la categoria per la migliore animazione, ha vinto l'Oscar, che è Shrek. Ah beh, è meraviglioso. Beh sì, anche perché parlando di amicizia, diciamo la verità, questa è un'amicizia perfetta, amicizia, amore, ribalta un po' gli stereotipi, quindi è riuscito un pochino a cambiare. Perché di solito noi avevamo l'universo Disney che era sempre perfetto con tutti questi principi e principesse meravigliosi e bellissimi, invece qui abbiamo un po' gli anti-eroi, no? Certo, sì. L'orco e il ciuchino. Esatto, l'orco e il ciuchino, il brutto che però è buono e poi, no? Abbiamo la Dreamworks, insomma, ha fatto un'operazione che poi si è rivelata vincente. Eh sì, 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 vero. Senti, ce lo vediamo insieme. Ok, perfetto. Cosa faremo quando torneremo nella nostra palude? Eh, la nostra palude? Sai, quando noi avremo finito con la principessa e tutto il resto. Noi? Ciuchino, non c'è nessun noi, nessun nostro. Ci sono solo io e la mia palude, capito? E la prima cosa che farò è costruire una muraglia intorno alla mia terra. È una pugnalata questa, una pugnalata dritta al cuore. Lo sai cosa credo io? Io credo che questa storia della muraglia è solo per tenere qualcuno fuori. No, tu credi. Mi nascondi qualcosa? Non ci pensare, Ciuchino. Ah, questa è come la cosa delle cipolle, vero? No, questa è come la cosa, molla e non sfinire più le persone. Ma perché non ne vuoi parlare? E perché tu ne vuoi parlare ad ogni costo? Perché questo blocco? Io non ho un blocco. Oh, sì, invece. Ciuchino, ti avverto. Chi vuoi allontanare? Dimmi solo questo, chi? Tutti quanti, chiaro? Oh, adesso sì che ci siamo. Oh, santo piripillo. Qual è il tuo problema, Shrek? Ma perché ce l'hai col mondo intero, eh? Senti, non sono io che ho un problema, capito? È il mondo che sembra avere un problema con me. Le persone mi guardano in faccia e fanno Ah, aiuto, scappate! Un grosso, stupido, orrendo orco. Mi giudicano prima ancora di conoscermi. Perciò mi trovo meglio da solo. Sai una cosa? Quando ti ho visto, non ti ho trovato un grosso, stupido, orrendo orco. Sì, lo so. Allora, ci sono dei ciuchini lassù? Beh, c'è la ciarlona. Quella minore e noiosa. Certo, certo, la vedo, è tutta brillante, è proprio lì, vero? È quella lì? Quella è la luna. Oh, capisco. Allora, Fabrizio, eccoci. Questo, assolutamente, devo rivedermelo di nuovo perché è troppo bello. Ogni volta, mi emoziona vedere Shrek, è veramente fenomenale come film. Beh, sì, perché in realtà porta tantissime riflessioni, quindi è un'animazione che ha dei dialoghi davvero toccanti in certi momenti del film. Senti, io, visto che tu sei l'ultimo dei ragazzi che oggi prenderò un po' in diretta telefonica attraverso di te, volevo un po' salutare tutti i ragazzi del laboratorio. Vuoi dire qualcosa, li vuoi salutare, vuoi salutarli, insomma, qua in viva voce? Beh, insomma, spero, ovviamente, come tutti, insomma, di rivederci presto, riabbracciarci presto. Sono molto contento che, nonostante questa situazione difficile, diciamo, essere uniti a mantenere vivo, insomma, insomma, la passione che abbiamo per la recitazione, per il cinema. C'è che con queste piccole iniziative riusciamo lo stesso a interagire fra di noi a distanza e a condividere, insomma, quello che è il nostro amore per il cinema, che è quello che facciamo, che vogliamo fare sempre, quello che facciamo ogni volta. E spero di poter ritornare a farlo, insomma, come prima e anche presto. Questo ci venga a dire a tutti. Volevo chiederti una cosa, sono Gianluca, volevo chiederti questo. Da qualche giorno sui giornali si sta leggendo qualcosa in più rispetto agli adolescenti, al fatto che comunque sono un po' spariti dall'agenda politica, o perlomeno se ne parla sempre molto poco, tra bambini e ragazzi. Vi siete fatti un'idea? Effettivamente, tanto si temeva questo fatto che gli adolescenti non riuscissero a stare dentro casa, invece poi alla fine si sta dimostrando che sono più responsabili di quello che si pensa. Che sensazioni hai tu rispetto a questo tema? Beh, allora, io per fortuna a casa sto bene perché con la mia famiglia ho sempre avuto un rapporto sereno e di fiducia, anche nel senso di dialogo, nel senso ci raccontiamo tutto quanto. Quindi noi la quarantena la stiamo vivendo serenamente noi, per fortuna, perché nel senso le dinamiche familiari sono molte, bisogna anche vedere i genitori, come si rapporta con i figli, perché molto spesso uno dice che i ragazzi sono i responsabili, però se sono i responsabili e fanno quello che fanno di sbagliato, non è che lo fanno perché loro sono cattivi, ma perché comunque tutto nasce anche da un'educazione, da quello che hanno ricevuto dai genitori. No, ma io intendevo rispetto anche alla rappresentanza, cioè il fatto che probabilmente forse ci si aspettava un passo in più verso di voi, cioè l'idea che forse si debba in qualche modo progettare il futuro anche a vostra immagine, cercando di lasciarvi qualcosa che possa essere effettivamente... Mi sembrate un po' silenti, o mi sbaglio io? Sì, ho capito il discorso. Sì, è vero che siamo silenti perché siamo noi quelli che dovrebbero mettere piede sul futuro, però in una situazione come questa qua è molto complicato, è molto complesso perché il futuro è anche un po' incerto adesso come adesso, quindi noi non... Cioè, se devo dire la mia, sì, nel senso noi dovremmo muoverci di più, nel senso dovremmo cercare anche noi di fare in modo di riuscire a risolvere queste difficoltà che stiamo attraversando in tutti i modi possibili, senza per forza essere, come dici tu, resilienti. Questo sì. Però secondo me avete dimostrato di essere probabilmente la parte migliore di noi, questo è il dato che secondo me emerge da questo, perché mentre gli altri diciamo che un po' la loro vita l'hanno fatta, voi avete tutto davanti e l'idea di sacrificare questi momenti belli della vostra vita in questo momento, in questo modo, dimostra che, ripeto, siete forse la parte migliore di noi e quindi su questo forse andrebbe riflettuto. Beh, nel senso noi facciamo quello che è giusto fare, noi facciamo il nostro, come tutti, noi facciamo semplicemente il nostro, portiamo, insomma, noi viviamo nella speranza che tutto questo si risolva il prima possibile, cerchiamo di rispettare le regole, insomma, le regole che servono per tutelare, insomma, la salute di altre persone, visto tutte le restrizioni, cerchiamo noi di rispettarle e di essere resistenti su questo. Sì, diciamo, però noi non è che dobbiamo avere un merito in più rispetto... No, no, giusto così, ognuno fa il suo, gesti quotidiani e secondo me ne usciamo. Guarda, quello che io spero è che una volta che ne usciamo da questo qui, noi cambiamo, nel senso, impariamo noi tutti, come persone, a essere meno egoisti, a mettere di pensare soltanto al nostro e di cercare di essere un po' più solidale e comprensivo verso tutto il resto, verso il mondo esterno, verso gli altri. Spero che comunque uno spirito di solidarietà venga messo, diciamo, si faccia forte dopo questi tempi. Va bene. Hai ragione Fabrizio. Rispondo adesso a Chiara che scriveva, non è che siamo silenti e che c'è una pandemia e siamo propositivi, siamo qui. No, su questo hai ragione. Siete giovani, siete propositivi, siete qui. Secondo me il discorso che faceva Gianluca era un po' un'osservazione che noi abbiamo fatto, è che i ragazzi sono stati molto responsabili, come gli altri, ma anche i ragazzi che per la loro giovanità spesso vengono tacciati di sono ragazzi, lascia fare sono ragazzi, invece siete stati tutti molto responsabili e forse in un momento così difficile l'agenda di governo meritava di più di mettervi al centro perché siete il futuro. Ecco, questo forse è un po' quello su cui noi ci stiamo arrovellando in queste ultime ore, se forse ha senso che anche voi siete più messi al centro perché voi siete il futuro, ma siete anche il nostro futuro. Era un po' questo. Comunque, grazie Fabrizio davvero e grazie a voi e proseguiamo adesso con le altre clip. Grazie mille Fabri, ciao. Grazie a te, ciao. Eccoci, andiamo con la prossima clip. Avete fatto una scelta, tra l'altro, di un personaggio che a me fa molto sorridere. Procediamo con Barney Stinson. E ancora, e ancora, adesso con Genio, Ribelle, con un gre... Sì. Can't see us, but we are out. Sono uscito con una giorni fa. Com'è andata? Molto bene. E la rivedrai? Non lo so. Perché no? Non l'ho chiamata. Oh Cristo, sei un dilettante. So quello che faccio. Ah sì? Sì. Non si preoccupi per me, so quello che faccio. Sì, ma questa ragazza, insomma, è bellissima, è intelligente, è divertente. È diversa dalle altre con cui sono stato. E allora chiamala, Romeo. Così mi rendo conto che non è poi tanto intelligente che mi rompe i coglioni. Sì, insomma, ecco, questa ragazza, cazzo, è perfetta. Ora non voglio rovinare questo. Forse tu sei perfetto, ora forse è questo che non vuoi rovinare. Questa la chiamerei una superfilosofia, Will. Così puoi in effetti passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno. Mia moglie scoreggiava quando era nervosa. Aveva una serie di meravigliose debolezze. Aveva l'abitudine di scoreggiare nel sonno. Scusa se ti racconto questa cosa. Una notte fu talmente forte che svegliò il cane. Si svegliò anche lei. Si è stato tuo io. Sì, non ho avuto il coraggio. Si è svegliata da sola. Sì. Oh, signore. Ma Will è morta da due anni e questo è quanto mi ricordo. Momenti stupendi, sai, piccole cose così. Però sono queste le cose che più mi mancano. Le piccole debolezze che conoscevo solo io. Questo la rendeva mia moglie. Anche lei ne sapeva di belle sul mio conto. Conosceva tutti i miei peccatucci. Queste cose la gente le chiama imperfezioni. Ma non lo sono. Sono la parte essenziale. Poi dobbiamo scegliere chi far entrare nel nostro piccolo strano mondo. Tu non sei perfetto, campione. E ti tolgo dall'incertezza. La ragazza che hai conosciuto non è perfetta neanche lei. Ma la domanda è se siete o no perfetti l'uno per l'altra. È questo che conta. È questo che significa intimità. Puoi sapere tutte le cose del mondo ma il solo modo di scoprire questa qui è darle una possibilità. Certo non l'imparerai da modo incoglionito come me. E anche se lo sapessi non lo direi a un piscione come te. E perché no? Mi ha detto già qualunque cazzata. Cristo santo. Parla più di tutti gli strizzacervelli che ho visto in vita mia. Io insegno questa merda. Non ho detto di saperlo fare. Già. Ha mai pensato di risposarsi? Mia moglie è morta. Indi la parola risposarsi. È morta. Sì. La chiamerei superfilosofia Sean. Insomma così lei può in effetti passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno. Il tempo è scaduto. Sono uscito con una giorni fa. Eccoci qua. Devo dire la verità che insomma un film meraviglioso di Gas Van Zand uno dei forse dei registi che più parlando adesso anche di adolescenti forse ha realizzato dei film tratteggiandoli in una maniera così vera insomma esemplare senza quei cliché e quegli stereotipi che spesso si mettono nel raccontare ai ragazzi. Quindi forse uno dei registi con cui ci piacerebbe davvero poter interagire e avere il nostro ospite. Noi siamo giunti alla fine di questa serata e voi avete scelto un film che abbiamo dato un po' di sere fa un film di Enzo Dalò anche per ricordare la scomparsa di Luis Sepulveda e la gabbianella e il gatto. Lo vediamo assieme. Non mi mangiare! No! 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 Non mi mangiare! Ti prego! Non mi mangiare! Mangiarti? Non mi passa neanche per la testa! Bleh! Quanto puzzi! Ma come hai fatto a ridurti così? Sono finita dentro un'onda nera che gli umani scaricano nel mare. Petrolio? Sì e sento che morirò. Morire? Ma che morire? Tu sei solo stanca e sporca! No! Non ce la faccio! Questo è stato il mio ultimo volo! Dea! Ma è disgustoso! Grazie comunque, amico! Amico? Ma che dice? Gatti e cambiani non sono mai stati amici! No, non ci riesco! Così non verrà mai via! Devo proprio cercare il puto! Aspetta! Aspetta! Con le ultime forze che mi restano voglio cercare di deporre il mio uovo! Ma devo chiederti di farmi tre promesse! Uovo? Promesse? Ma lascia perdere! Io sto morendo! Non posso più aspettare! Ti prego! Va bene! Prometto! Prometto! Ma che cosa? Da prima! Promessa che ti chiedo è di non mangiare l'uovo! D'accordo! E che cos'altro? Poi promettimi che ne avrai come finché non nascerai il piccolo! E in ultimo! E in ultimo! Ti prego! Promettimi che gli insegnerai a volare! Volare? Ma io sono un gatto! Però hai un cuore grande come quello di un gabbiano! Farai ciò che ti ho chiesto! Va bene! Va bene! Te lo prometto! Ora vado a cercare i tuoi! Devo dire che parlando di amicizia questo veramente è una fine meravigliosa perché ci ha consegnato forse una delle storie più belle da raccontare non soltanto ai più piccoli ma anche a noi adulti! Vi ringrazio se la cosa più bella che ho sentito è che anche attraverso di noi voi riuscite a rimanere assieme, rimanete insieme, fate rete, avete un modo di parlare delle passioni che vi legano come il teatro, come il cinema, come il mestiere dell'attore e quindi anche soltanto per questo vuol dire che cinema da casa anche nel suo piccolo è riuscito anche stasera o anche in alcune serate a fare qualcosa quindi grazie e ci diamo appuntamento per parlare ancora di giovani e di ragazzi domani sera avremo con noi Ivano De Matteo alle 22 quindi se avete voglia vi aspettiamo un saluto da cinema da casa oggi forse il Fonico è... vediamo se ci viene a salutare perché oggi c'è ET quindi dovete capire che è una serata molto particolare Fonico saluti! Ciao da cinema da casa, allora vi volevo dire una cosa, tra un po' se voi ci sarete tornerà il festival quindi se volete andarci si trova in un posto un po' lontano se vedete una scritta con scritto di Disneyland potete, là vicino c'è un cancello e potete andarci benissimo, ciao da cinema da casa grazie, va bene, con l'augurio di vederci in auditorium vi saluto anche Tito il Fonico ciao da cinema da casa, a domani